è il 184esimo giorno dall'inizio dell'anno siamo sotto il segno del cancro la chiesa ricorda san santo martire l'onomastico oggi è l'onomastico di santo e sante il nome ha origine latina e significa sacro il numero porta fortuna è il 6 il colore è l'arancione e la pietra associata il diamante accadde oggi il 2 luglio del 1897 guglielmo marconi brevetta a londra la radio chi è nato oggi tra i personaggi famosi nati il 2 luglio ricordiamo lo scrittore tedesco e premio nobel herman hesse il giornalista michele santoro la citazione del giorno sulla terra c'è abbastanza per soddisfare i bisogni di tutti ma non per soddisfare l'ingordigia di pochi gandhi dice il saggio ogni contrario ha un suo contrario il bel paese monterano è una città fantasma situata nella provincia di roma arroccata su un'altura tufacea i cui fianchi dirupano per circa 100 metri le suggestive rovine di monterano offrono al visitatore angoli di grande fascino e bellezza tra una fitta e intricata vegetazione si stagliano monumenti di rilevante valore architettonico come il palazzo baronale la chiesa e il convento di san bonaventura costruiti su progetto di lorenzo bernini e una bellissima fontana a base ottagonale le rovine dell'antico borgo per la loro bellezza e la relativa vicinanza a roma sono state utilizzate come set per numerosi film italiani e stranieri per la loro bellezza film italiani e stranieri film italiani e stranieri film宮 fuel